Li avrebbe scagliato contro una bottiglia di soluzione fisiologica provocandogli una ferita al volto giudicata guarribile in cinque giorni, vittima un infermiere in servizio presso il pronto soccorso dell'ospedale di Martina Franca, autore del gesto un paziente di Monte Parano che nella mattinata di venerdì 21 luglio durante le fasi di triage ha lamentato l'attesa ritenendo di aggredire così l'infermiere. Immediatamente sul posto sono intervenuti gli agenti della squadra mobile che hanno deferito l'uomo all'autorità giudiziaria. Il presidente dell'ordine delle professioni infermieristiche di Taranto, dottor Pierpaolo Volte, ha espresso la solidarietà di tutta la comunità professionale al collega aggredito durante il proprio turno di lavoro.